No deal o meglio broken deal. Alla fine il Presidente Trump ha deciso e ha rotto come previsto l'accordo sul nucleare negoziato nel 2015 dai membri del Consiglio di Sicurezza più la Germania. Un accordo che non gli è mai piaciuto, sul quale ha mostrato una decisa coerenza dalla campagna elettorale al primo anno di presidenza, che non piaceva a lui e non piaceva ai suoi più recenti collaboratori, Mike Pompeo e John Bolton, e a nulla sono serviti i pellegrinaggi dei leader europei di questi ultimi giorni per cercare di fargli cambiare idea. E ora? Cosa farà Teheran, la cui Guida Suprema ha annunciato gravi conseguenze nei giorni scorsi se fosse stato cancellato l'accordo e il cui Presidente si troverà ora in grave difficoltà per un accordo che è negoziato e che non dà i benefici previsti? Cosa farà l'Europa? Un'Europa che si è spesa unitariamente per questo accordo e che si trova ora a suo malgrado alleata di russi e cinesi in una posizione di dissidio con gli americani. E cosa faranno Israele e l'Arabia Saudita se Teheran deciderà di proseguire sulla strada del nucleare interrotta nel 2015? Sono alcuni degli interrogativi a cui cerca di dare questo rapporto dell'ISPI delle risposte, delle risposte a caldo per comprendere le sfaccettature e gli scenari possibili che emergono da questa nuova decisione della Presidenza Trump.